ciao ragazzi eh sì è vero è un po' che non ci vediamo come ho detto era il periodo di pasqua quindi abbiamo pensato più a mangiare a dire la verità però da oggi si ricomincia e non si ricomincia da soli perché qua palermo palermo metropolitana per intenderci perché ci troviamo qua vicino a Punta Raisi siamo in zona rossa quindi i miei cugini Massimo eccolo qua che vi saluta e suo figlio Giancarlo che sta facendo un po' di muro come sempre per ammorbidire i piedi destro sinistro sono venuti a trovarmi perché essendo che siamo in lockdown ovviamente anche loro sono chiusi Giancarlo con la scuola e con la scuola calcio e Massimo in parruccheria è fermo e quindi non sono da solo quindi siamo in compagnia abbiamo armato una palestra all'aperto quindi io sono sopra il pallone ma abbiamo già quasi finito abbiamo fatto il lavoro aerobico abbiamo fatto il lavoro come al solito scatti in salita ho fatto i 30 metri Giancarlo ha il suo lavoro noi abbiamo fatto il nostro lavoro come sempre i warm up abbiamo finito di fare addominali adesso ci andiamo a fare una bella doccia quindi mi raccomando proveremo a fare anche se non domani dopo domani poi vediamo se domani riesco a fare quel programma a descrivere tutta la programmazione che ho fatto al presidente che vi avevo promesso la dobbiamo fare quindi vedremo e quindi in questo domani ci rivedremo di nuovo c'è un bellissimo sole oggi è andata bene quindi in grande compagnia noi da dalla palestra dalla nostra palestra all'aperto vi salutiamo come sempre l'allenamento si fa sempre e comunque Giancarlo vuoi salutare con quei pop e corne pure in testa a posto ciao ragazzi ciao